guardate al mercato tamburo guardate guardate che trappola che c'è che buca questa è una trappola per far cadere le persone melucci musillo dove caspita siete stati per quattro anni e mezzo guardate elettori cacciate li questi due quando vi vengono a chiedere il voto guardate questa è l'immagine le trappole e hanno pure il coraggio di venire politicamente fateli sparire da taranto via melucci musillo per 21 anni ho combattuto lottato per taranto da giornalista prima e oggi lo voglio fare da sindaco guardate questi sono melucci musillo questa è la loro incapacità due nullità politiche quanta gente cade qui 4 giorni fateli sparire politicamente da taranto mandateli via